Dio ha creato il genere umano perché forma una sola famiglia. Quando qualche nostro fratello o sorella soffre, tutti noi ne siamo toccati. In immensas caravanas marchano i fugitivi della vita impossibile. Viajan del sur hacia il norte e del sol naciente hacia il poniente. Les hanno robato il suo lugar nel mondo. Huyen delle guerre, dei salarii exterminati e dei suoi arrasati. Peregrinano inventando caminos, querendo casa, golpeando porti. La porta che si abriano maggiamente al passo del dinero, si cerra in sus narici. Alguni consiguen colarsi, altri sono cadavere che la mara entrega a le ori proibili. L'integrazione inizia con la conoscenza. Il contatto con l'altro porta a scoprire il segreto che ognuno porta con sé e anche il dono che rappresenta imparando così a voglierli bene e vincendo la paura, aiutando ad inserirsi nella nuova comunità che lo accoglie. Ognuno di voi ha la propria storia. E questa storia è qualcosa di sacro. Dobbiamo rispettarla, accettarla, riceverla e aiutare ad andare avanti. Dobbiamo rispettarla, riceverla e aiutare a tutti i cristiani che lavorano in l'acogita, protezione, promozione e integrazione di i migrati e i rifugiati in la società e in la Iglesia. Vuestro lavoro callato e permanente è una denuncia profética per a quelli che si cruzano di brazo o mirano per a un altro lato ante il grave drama della migrazione. Grazie. Grazie. Grazie.